dopo l'arrivo in casa sunlight del nuovo van a trazione integrale realizzato su for transit questa base meccanica andrà ad equipaggiare anche alcuni modelli che amplieranno l'offerta sul fronte dei semi integrali una tendenza quella dell'adozione della meccanica for transit sempre più frequente nell'attuale panorama dei veicoli ricreazionali alla quale il dinamico brand del gruppo Imer non poteva certamente sottrarsi ma sunlight coglie questa occasione anche per rinnovarsi per dare ai propri veicoli un look nuovo e sempre più moderno senza però dimenticare i suoi valori principali ossia minimalismo funzionalità e cura dei dettagli sono proprio i nuovi semi integrali su base ford ad essere i precursori di questa ventata di novità e il primo a fare la sua apparizione è l'inedito sunlight t 680 qui presentato nel ricco allestimento denominato adventure edition si tratta di uno dei modelli più grandi tra quelli attesi lungo 736 centimetri e caratterizzato da un layout interno tra i più classici ma sempre ricercati della categoria quello con letti gemelli in coda posizionati su garage l'allestimento adventure edition dona a questi semi integrali un aspetto esterno decisamente aggressivo cabina di guida a colore nero pareti laterali silver e cerchi in lega da 16 pollici sempre di colore nero si nota inoltre la volgente paraurti posteriore dal disegno completamente inedito dove spicca una particolare dinamica fanaleria led dal design progressivo grazie alla bridge light centrale si fa inoltre notare la porta d'ingresso la cellula dotata di finestra ora dalla larghezza maggiorata rinnovamenti che continuano anche negli ambienti interni grazie a un arredo che gioca piacevolmente con una nuova essenza chiara del legno pensili dal colore bianco e parti del mobilio e piani grigio scuro il tutto impreziosito da numerosi elementi di colore nero scendendo nel dettaglio il sunlight t 680 offre una distribuzione tradizionale degli spazi interni amplificati però dalla sua grandezza complessiva ecco dunque un living che prevede una semi di net integrata dai sedili girevoli della cabina e coadiuvata da una poltroncina laterale la cucina dalla forma l è generosa nelle dimensioni offre un buon piano d'appoggio e adotta ora una nuova tipologia di fornello a due fuochi continuando verso la coda del veicolo ritroviamo la toilette organizzata in due locali indipendenti dove spicca il nuovo mobile lavabo con vasca non integrata nel piano e infine la camera padronale con i citati letti gemelli dove si notano invece i rinnovati vani portaoggetti laterali come la maggior parte dei semi integrali di casa sunlight anche l'ultimo arrivato può essere dotato in opzione di letto basculante anteriore una rivisitazione importante dunque sia del look esterno sia degli ambienti interni che viene però estesa anche alla già conosciuta gamma di semi integrali allestiti sulle basi meccaniche del fiat ducato o del citroen jumper sui quali spiccono ora le nuove grafiche dedicate alle pareti esterne l'inedito paraurti posteriore e i rinnovati arredi interni e come modello rappresentativo di questi cambiamenti ecco il sunlight t 69 lc un profilato lungo 740 centimetri che unisce la presenza di un confortevole matrimoniale posteriore centrale nautico a un soggiorno in conformazione face to face e a una toilette passante organizzata sempre in locali indipendenti rivisto infine nel design e nell'organizzazione degli spazi anche il modulo ovario adottato nel locale bagno di alcuni modelli è il caso ad esempio del sunlight t 67 che pur essendo caratterizzato da una lunghezza generosa pari a 735 centimetri decide di donare maggior spazio vivibile alla zona giorno adottando alcune soluzioni salvaspazio come per l'appunto tale tipologia di toilette in questo modulo rinnovato la parete ruotabile non è più realizzata in termo formato ma integra un elegante mobile lavabo la porzione sinistra del vano oltre al vc e all'armadietto dedicato allo stivaggio ospita ora dei ganci appendi abiti e un'insolita mensola superiore che può risultare utile per riporre la dencheria da bagno superiore che può risultare utile per riporre l'appunto